Abbiamo una notizia, non bella però pasquale, io credo tutto sommato da dare ai nostri telespettatori perché chiedo alla regia di abbassare il volume, perché stanotte alle due di notte è mancato il cardinale Ersiglio Tonini personaggio noto a tutti gli italiani perché è entrato nelle case dei nostri connazionali in occasione del programma I Dieci Comandamenti del compianto Enzo Biagi e il cardinale aveva appena compiuto il 20 di questo mese, la scorsa settimana, 99 anni io ricordo di essere stato da lui proprio un anno fa, il 20 luglio dello scorso anno per il 98esimo compleanno perché mi sembrava giusto compiere quel gesto e se non ci fossero state le incombenze per la GMG sarei tornato anche quest'anno era una persona alla quale ero molto legato perché lui era molto legato al mondo dei media ed era stato a lungo presidente del consiglio di amministrazione di Avvenire dove l'aveva voluto Papa Paolo VI. questo. Quest'uomo è morto per anzianità, diciamo, per complicazioni respiratorie e con un filo di voce proprio il giorno del suo compleanno, ultimo compleanno aveva detto non ho ancora capito quale sia il ruolo del giornalismo perché il suo vero ruolo, il suo compito sarebbe quello di andare a vedere la realtà attuale con gli occhi degli uomini attuali. Ecco, il suo compito sarebbe quello di andare a vedere sta a dire che egli non giudicava perfetto il giornalismo di oggi però si sentiva parte della nostra compagine e il giornalismo italiano, il giornalismo mondiale perde un suo profeta e egli è stato vescovo di Macerata, Cingoli, Treia ed è stato poi arcivescovo di Ravenna e Cervia al compimento dell'ottantesimo anno di età il Papa Giovanni Paolo II gli fece l'onore di crearlo cardinale e sapeva vedere lontano e sapeva vedere in profondità aveva studiato e insegnato filosofia e questa l'aveva messo a servizio della vita buona degli uomini di oggi fu il primo in Italia a capire i rischi della manipolazione genetica e i rischi di una certa bioetica vissuta spavaldamente è stato e resta un amico vero di tutti noi un sacerdote autentico fin nel midollo mi diceva stamattina Suor Paola la sua fedelissima governante, assistente, amica, figlia che l'ha custodito con cura di figlia mi diceva stamattina che dai quaderni del suo diario diario dell'anima, un diario personalissimo che lei da tempo sta trascrivendo su sua indicazione emerge il continuo desiderio ogni giorno, quasi ogni giorno emerge dalle pagine di questo diario il desiderio di vedere il volto del Signore soprattutto di vedere gli occhi del Signore e diceva e scriveva nel momento in cui vedrò gli occhi del Signore capirò tutto della mia vita ecco lo ricordiamo con affetto grande con stima grande lo ricordiamo già con rimpianto è stato davvero un amico di tutti noi un amico di tutti gli italiani è stato un grande italiano e un grande prete grazie a tutti